Ciao amici, credo abbiamo tutti sofferto per i punti neri e per alcuni sono un vero tormento. Ah sì, io mi ricordo che fastidio schiacciarli uno per uno. Oggi lo facciamo senza dolore. Ecco 7 maschere naturali fatte in casa anti punti neri. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ma perché vengono i punti neri? Le cause sono diverse. Oltre al tipo di pelle, più grassa o con più sebo e ai fattori genetici, quello che influisce di più è come sempre l'alimentazione. I grassi animali e quelli industriali, zucchero, alcolici, caffè e anche il fumo possono causare o aumentare la comparsa di punti neri. Quindi oltre alle maschere di oggi è importantissimo fare prevenzione mangiando nel modo giusto. Per sapere come fare basta iscriversi al mio canale, è facile, con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Ecco le 7 maschere naturali anti punti neri. 1. Maschera al pomodoro. Mica dobbiamo fare il sugo, funziona anche sulla pelle. È facilissimo, si schiaccia un pomodoro sbucciato fino a formare una poltiglia, si applica la sera sui punti interessati, si lascia in posa 20 minuti e si sciacqua. Il licopene antiossidante e antisettico dei pomodori aiuta a eliminare i punti neri. 2. Maschera con limone. Il limone è un rimedio della nonna utile anche per schiarire la pelle come ho spiegato in questo video. Contro i punti neri si mescolano alcune gocce di limone con mezzo cucchiaino di sale, si fa un leggero scrub nelle zone interessate, si lascia in posa 5 minuti poi si sciacqua bene. 3. Maschera con miele. Il miele è una vera coccola di bellezza per il viso, si può usare il miele come una crema e massaggiare bene le zone con i punti neri. Lasciare in posa per 15 minuti poi lavare con acqua tiepida. 4. Maschera con bicarbonato. Usare bicarbonato e acqua per fare una pasta morbida, applicare delicatamente dove ci sono i punti neri, lasciare massimo 3 minuti o finché si tollera, poi lavare bene con acqua. Ho parlato degli straordinari usi del bicarbonato in questo video. 5. Maschera con avena. La farina d'avena è incredibile come scrub e per depurare la pelle. Mescolare 2 cucchiai di farina d'avena con 3 cucchiai di yogurt intero senza zucchero. Unire un cucchiaio di succo di limone e mescolare bene. Applicare sulle zone colpite e aspettare 10-15 minuti, poi lavare bene con acqua tiepida. 6. Maschera con l'uovo. Fare una crema con un albume d'uovo, un cucchiaio di miele. Stendere sui punti neri, aspettare 30 minuti e lavare con acqua tiepida. 7. Maschera con cannella. La cannella aiuta a pulire e depurare la pelle. Preparare una pasta densa con cannella in polvere e succo di limone in parti uguali. Applicare la pasta sui punti neri la sera, lasciare almeno 30 minuti, poi lavare bene. Alcune me le mangerei, è questo il segreto. I prodotti che si mettono sulla pelle dovrebbero essere così naturali da poterli anche mangiare, io lo dico sempre. Provate queste maschere a rotazione e fatemi sapere come va nei commenti, perché la bellezza è naturale sempre. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!